bentornati in questo nuovo video vi mostrerò come resettare la spia e gomme o meglio il tps vedete nel dettaglio questo stemmino arancione con due parentesi e un punto esclamativo può capitare che alcune macchine lo abbiano nel display interno e in alcune addirittura viene indicata che ruota è che ha la problematica comunque per resettarlo il procedimento molto semplice o nella portiera o cercate su internet per le vostre gomme insomma allora motore acceso andiamo a tenere premuto questo tasto qui questo questo procedimento va fatto solo una volta controllate le gomme gonfiate perché poi va a resettare a tenere in memoria la pressione che gli abbiamo dato questo è tutto se vi è stato utile questo video lasciato like e iscrivetevi per non perdervi nessun video alla prossima questo procedimento nel dettaglio per la fiat tipo allora per prima cosa dovete controllare le gomme se sono sgonfie gonfiarle a una delle pressioni che sono indicate nel 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 nel